30 secondi siamo al quarto minuto un minuto alla fine prende la rincorsa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sulla palla la palla del pareggio ed è pareggio ha pareggiato la Juve ha pareggiato la Juve con Cristiano Ronaldo ha pareggiato è il pareggio di Cristiano infallibile sui calci piazzati CR7 davvero micidiale